Mi sembra che la sensibilità dei sindaci è molto forte, io ho sentito sindaci europei, stiamo decidendo di mettere in campo delle iniziative importanti perché Porti Aperti non è semplicemente legata a una città. Noi fa piacere che siamo stati i primi, in questo caso essere primi significa qualcosa di importante sul piano umano, sul piano politico e il fatto però che siano seguiti tanti mi incoraggia moltissimo perché c'è una forte esigenza di dimostrare che il Mediterraneo è altro rispetto alla paura, all'odio, alla guerra e al sangue, ma il Mediterraneo è anche accoglienza, anche pace, anche solidarietà e anche non lasciare soli chi si impegna tantissimo come l'Italia, in particolare le città del sud e in particolare le città di mare che fanno tantissimo e che non fanno propaganda. Stanno sul fatto, come dire, qua c'è gente che si fa le carriere politiche sulla propaganda e sulla pelle delle persone, noi stiamo invece in quel campo in cui si soffre, in cui c'è il conflitto sociale, in cui si evita che ci possa stare qualcosa di ancora peggio. E poi attenzione perché con le comunità del rancore non si va molto lontano e nelle comunità del rancore che nasce l'odio e dall'odio nascono anche altre cose. La proposta umanitaria che ho fatto io, siccome i sindaci hanno il volto umano, il giornalista mi ha chiesto un'opinione su questo e vedo come Valencia, dove tra l'altro c'è un assessore italiano che si è impegnato molto sul punto, Barcellona ho sentito Ada Colau, mi sono sentito ieri con Coppodemos, mi sono sentito con altri sindaci europei, con sindaci italiani e mi sembra che, non voglio dire unanimità perché direi una cosa sbagliata, ma la stragrande maggioranza dei sindaci stanno su questa posizione che, attenzione, non è la posizione di dire, ah volete, come dice furbescamente Salvini, il campo profughi. No, anzi, noi siamo i primi che vogliamo che ci sia integrazione vera, che ci sia solidarietà, che ci sia un'accoglienza diffusa in tutto il territorio europeo, che la si smetta con le guerre ingiuste a cui ha contribuito anche Salvini quando è stato al potere o che faccia l'Europa delle disuguaglianze a cui ha contribuito anche Salvini o che si facciano leggi che fanno non l'integrazione ma il deposito degli esseri umani a cui ha contribuito anche Salvini. Quindi ecco la differenza tra chi ha un volto umano, ha una politica seria, concreta, efficace e chi continua a fare solamente propaganda e quindi, come dire, l'appello è a tutti i sindaci di fare rete e non lasciare qualche sindaco isolato. Lampedusa si è caricato un lavoro enorme, poi se l'è caricato Catania, se l'è caricato Messina, Palermo, poi se l'è caricato Napoli, se l'è caricato Salerno, la Calabria. Insomma, credo che l'Italia del Sud, che è quella che ha più sofferenze, meno soldi, più criticità, è quella che ha dato la risposta migliore in termini istituzionali, politiche e cittadine. Questa è una bella pagina al diario. Riconosciamolo che chi rimane dal volto umano ha lo sguardo lungo, chi costruisce comunità del rancore sta mettendo anche in pericolo la sicurezza del Paese.